Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare della favola di Esopo, la favola della volpe e l'uva, una favola che sicuramente conoscerete, io personalmente l'ho raccontata ai miei figli quando erano piccoli e che comunque è una favola sempre attuale, è una favola che ci riporta nel quotidiano e quindi un po' in tutti gli ambiti, ma soprattutto nell'ambito della seduzione in questo caso e in particolar modo vorrei parlare di quegli uomini che si comportano proprio come la volpe, la volpe che affamata si avvicina ad una vite volendo appunto afferrare l'uva, non riuscendo ad afferrarla, va via dicendo appunto ah ma non mi interessa, tanto è racerba. Questo è quello che succede anche nell'ambito della seduzione, soprattutto da parte degli uomini. Quando una donna non si fa conquistare, non vuole farsi conquistare, non si fa sedurre o non la si riesce a sedurre, succede che questi uomini comincino poi a denigrare, a sminuire, ad offendere la donna che fino a ieri era ambita, quindi piaceva e oggi invece la sminuiscono, la denigrano, la offendono anche pesantemente, un po' dappertutto, le fanno cattiva pubblicità. Ecco questo è un atteggiamento immaturo che neanche un bambino in pratica mette in atto o forse un bambino nel caso in cui non si dà una giustificazione per non accettare se vogliamo un fallimento tra virgolette, sempre se si possa chiamare fallimento però in pratica poi è questo quello che un uomo sente, sente di aver fallito e come risposta passa alla denigrazione, a sminuire, a offendere la donna che non è riuscito a conquistare, ad avere, a possedere. Perché dico possedere? Perché molto spesso sono proprio quegli uomini che mirano solo e esclusivamente al possesso di una donna, quindi tutto il contorno poi alla fine non gli interessa neanche perché il loro obiettivo era appunto avere, quindi possedere, conquistare e dal momento in cui non sono riusciti o non ci riescono allora passano al denigrare. Ecco uomini è un atteggiamento davvero mal visto da parte delle donne soprattutto perché queste diranno ma come ho fatto bene, io l'avevo detto che questo tipo era davvero un coglione, quindi non avrà sicuramente nessun ripensamento una donna che si sente denigrata, sminuita da parte di un uomo che prima magari tentava di sedurla, conquistarla o corteggiarla e quindi sicuramente si azzererà completamente la possibilità di conquistarla ma si conclamerà l'idea da parte della donna che aveva a che fare con un perfetto idiota. Con questo video è tutto, un bacio dalla Pink, ciao ciao!